Sì, la trentesima pole position per Max Verstappen che guaglia un altro campione del mondo, Nico Rosberg. Questo è solo uno dei temi che tratteremo nel corso di questa mezz'ora, che passeremo insieme subito con i nostri titoli. Non mi hai trovato a margine, ciao Mark. Ciao Federica. Ciao Davide. Ciao a tutti. È complicato sottolineare quanto forte mentalmente sia, ma probabilmente è anche semplice guardando all'approccio che ha ogni weekend di gara, Mark. Perché sembrava anche quasi rammaricato di quell'errore nel finale. Lui che ancora una volta ha fatto la differenza, una differenza abissale. ...remando, sempre in piccole correzioni. ...differenze tra piloti, chi riusciva a gestirla e chi no. Era tanto complicato anche la gestione delle gomme, sentire quello che ci ha detto Leclerc. E perciò in questi tipi di condizioni, Vestappen fa un sacco di differenza su Perez. Abbiamo visto quelle qualifiche bagnate quest'anno, l'abbiamo vista in condizioni di freddo. E oggi in condizioni difficili, vento, pista non perfetta, tanto difficile, ha fatto un abisso. La macchina è la stessa, però poi te la settono in maniera che per Vestappen è perfetta. E Perez deve adeguarsi perché... ...tutti nella gara di domenica perché ve lo ricordiamo a quest'anno la qualifica del venerdì e poi quella che definisce la griglia di partenza di domenica. Max Verstappen è qui. Max, grazie. ...ri chiamati dagli steward, ma questo è solo un piccolo neo di questa giornata. Lo andiamo a vedere dopo adesso, non ho capito dalla regia. ...un po' anche perché è un discorso questo che tocca da vicino la Ferrari che spera di rosicchiare dei punti in classifica costruttori proprio alla Mercedes. Non ci saranno invece le McLaren, lì davanti loro... Dov'è Norris? Chiedevano, dove è Norris, no? Dopo Piastri non lo sapeva, per cui un po' divertente. ...su Zuka, perciò clamorosa, pensa che Norris si è auto-insultato per radio con il team. Sì, ha fatto un po' di risultato. ...su Zuka, perciò clamorosa, pensa che Norris si è auto-insultato per radio con il team. Sì, ha fatto un po' di risultato. Poi solo possiamo dire due parolini, neanche una mezza parola e basta. Piastri ha dovuto addirittura aggiornare la situazione al ring delle interviste. Poi solo possiamo dire due parolini, neanche una mezza parola e basta. Piastri ha dovuto addirittura... Quando sbagli. Dalla McLaren, dunque, che non è riuscita a cogliere una grande opportunità, alla Mercedes che invece, ragazzi, quest'opportunità se l'è presa a due minuti. ...un po' preoccupati nel vedere che i due partono vicini? Sì, perché domani... ...o terzo, perché Hamilton non era particolarmente... ...entrambi in una pista difficile. Praticamente ha fatto male tantissimi piloti e loro entrambi bene, complimenti a loro. Avranno capito la strigliata di Toto? La telefonata di Toto, che pare si sia abbastanza innervosito dopo... Ah, io sono sicuro, è quello di Suzuka. ...in mattinata, insomma, nel primo pomeriggio qui, ci aveva dato l'idea che avrebbe potuto forse togliersi le soddisfazioni migliori rispetto a quella che è stata poi una qualifica. Che ha visto Sainz battagliare molto con la macchina, ce l'ha detto... ...tanti, tanti, no? E come lo spieghi questo? O perché c'era tantissimo vento, quasi 30 km orari, e si sa che alcune macchine sono più sensibili a altre... ...però lì pensiamo che lo è. E dopo la difficoltà, lo diceva anche Charles, nel primo tentativo, con un po' meno caldo, andiamo bene e la mattina vedremo. Domani l'unica variabile sarà questa, che farà più caldo la mattina, sì. L'unica cosa è da considerare quando guardiamo questo tipo di weekend. La macchina poi non la tocchi più. L'unica nel weekend, e attenzione, c'è stato Leclerc che è stato bravo anche a sfruttare gli errori degli altri e piazzarsi quinto due posizioni in più di quelli che la loro velocità meritava. Perciò ti dico che io non so se domenica riusciranno ad andare al meglio del quinto posto. Deve fare una super gara. All'altra parte invece... Ci ha spiegato. Perché Charles... Lei ce l'ha detto, no? Fred non ha detto cosa? Cosa ha detto, curva 12 mi sembra, un errore che... Con Carlo... Dicevamo delle Ferrari che partiranno quinta con Charles Leclerc, che si era classificato dopo le due McLaren, le due Mercedes, chi invece è lì davanti a lui e ancora una volta Fernando Alonso, non davanti alla Ferrari ma davanti al suo compagno di squadra. Questa è una costante assoluta di questa stagione. E che gape, eh? Un secondo e uno nel passaggio del... A un certo punto erano due secondi. Erano due secondi. Come facciamo a spiegare a quelli che ci dicono che con l'età un po' si perde il tempo sul giro? Uno, perché Fernando Alonso ha 42 anni e Lance è molto più giovane. Due, come si fa? In parte al papà dovrebbe fare una riflessione, non tanto sulle qualità di Alonso, che sono evidenti, ma su quelle di Lance che ne riesce... L'incolumità psicologica... Sicuramente non so, io immagino che il papà deve essere bravi, perché va per merito migliorando o sta peggiorando. Sentiamolo però. Eccolo, Lance Stroll. Lance, abbiamo visto... Penso che davanti alle telecamere rispondi a domande di giornalisti che ti chiedono evidentemente cosa è successo, cosa non va, cosa devi fare. E sì, no, niente, potrà guidare. Questo è il suo momento. Non si vedeva arrabbiato con sé, è proprio fuori di sé. Lo andiamo a sentire, Fernando. Ci sono... Molto, 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 molto felice, anche ho spettato il suo compagno, felicissimo direi. Sono molto... Primo. Ok. Penso, parte della parte sinistra. Forse dopo posso verificare la regia. Il quarto in questo caso, no? E' il quinto. Vediamo, vediamo quello che sarà. Intanto vi ricordiamo che nella Casa dello Sport in questo momento c'è spazio anche per il Mondiale di Rugby. Francia-Italia, il match che vi stiamo trasmettendo su Sky Sport 1, live in questo momento. Match che diventa decisivo per l'Italia dopo l'ultima partita brutta contro gli All Blacks. Non so se vogliamo dare anche un aggiornamento al risultato. No, perché se no vi spoileriamo tutto. 201, il canale di riferimento. Andate a dare un'occhiata, soprattutto a tifare per i nostri ragazzi. Prima di salutarci, vi diamo gli appuntamenti a giornata di domani. Giornata di domani che sarà conclusiva nella sua completezza. Perché si parte alle 14.40. E tu ti fai a Italia, eh? Del rugby, mi raccomando.